L'Associazione Pensionati Coldiretti Sardegna ha chiesto alla Regione un bonus per i pensionati. L'organizzazione, guidata da Gianni Girasole, ha inviato una lettera al Presidente della Giunta regionale, Cristian Solinas, e all'assessore a lavoro, Alessandra Zedda, firmata anche dal Presidente regionale Coldiretti, Battista Qualbu, nella quale viene richiesta un'integrazione straordinaria per i quattro mesi di lockdown in seguito al coronavirus, che vanno da marzo a giugno 2020, a coloro che percepiscono pensioni minime, ovvero poco più di 500 euro, in modo da assimilarle almeno al reddito di cittadinanza che è di 780 euro mensili. Gli anziani, fin dall'inizio della pandemia, sono stati i soggetti più vulnerabili che maggiormente hanno risentito, sia economicamente che fisicamente, del disagio causato dal Covid, spesso costretti a situazioni di restrizioni al limite della sopravvivenza. Questo bonus, secondo la Coldiretti, dovrebbe essere stanziato in base ai dati comunicati dall'Inps per i titolari di assegno sociale, pensione sociale, pensione di invalidità, assegno invalidità, pensione di vecchiaia.